ciao amici di youtube bentornati in uno dei giorni più importanti della mia vita bentornati sul canale oggi ci sono le bull per il mio di alay tam stavo aspettando di sposare mio marito da tanto tempo e il giorno è arrivato siamo qua felici insieme di dirvi che appunto oggi porteremo a casa coronando al nostro sogno d'amore più considerazioni possibili su troviamo nelle pulche all quindi io vi auguro di godervi le pool speriamo che sia andato tutto bene prima un giorno molto molto importante e loro sono qui a condividerlo con me in live niente se vi va seguitemi su tutti i social mi trovate con tutti i link nell'info box e vi auguro una buona visione per queste pool e niente grazie per averci permesso di incontrarci genshin impact l'amore la mia vita era in 2d in un videogioco e io non lo sapevo oggi lo so siamo siamo qua pt3 andiamo a pt13 ed abbiamo il garantito ragazzi è proprio noi dov'è fatemi mettere i fiori dov'è marcia nuziale andiamo do sta mio marito pt4 era pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 mio marito ragazzi è iniziata la mia vita da sposata madonna quanto mi batte il cuore per l'emozione pt10 siamo a pt10 andiamo a pt20 pt20 4 stelle vediamo vediamo se ci droppano una litica sono contenta perché mi sa che ne ho una sola quindi anche solo per fare qualche refine non sarebbe affatto male le altre armi le ho tutte rifainate veramente tante volte quindi non ho bisogno se no uno dei quattro stelle personaggi che vi ho detto non mi dispiace minimamente anzi è appunto i am fei no cioè grazie ma no prendetela voi nell'evento se non ce l'avete prendetela nell'evento ora di lui è fortissima dps fortissimo prendetela voi io personalmente la la schippo la schippo ok bene da pt20 andiamo a pt30 ok ok vediamo è uscita i am fei quindi probabilmente esce un'arma cioè per forza deve uscire un'arma sto giro se non sbaglio funziona allo stesso modo analogo al banner evento che se appunto se ti esce appunto un'arma nella pole dopo il quattro stelle ti esce per forza un personaggio del banner quindi stesso discorso qua ok vediamo se c'è un doppio quattro stelle ma io direi che abbiamo già abbiamo già sculato abbastanza potremmo farci un pt per il garantito e invece no ok bene andiamo a pt40 quattro stelle l'avevo visto un po più laggoso sono sincera avevo visto un po più laggoso allora saio a rain slasher fa indiluvio per gli amici io avrei bisogno di quegli altri personaggi quattro stelle che non mi vogliono uscire anche nel permanente quando si lo le molti mi escono sempre sempre i personaggi che non mi interessano che ho già stramega costellato vediamo vediamo di qua di qua ok 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 50 ok altre 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 rain slasher già posso fare ok ok manuale di magia quattro stelle pg dai o comunque nessuna litig per ora incredibile ti ho detto volevo una litig una litig una eh non 15 una abbonata va bene è mia moglie liana quindi per me va bene però insomma è che il nostro amore troppo forte non ce la possiamo fare ci amiamo troppo non ce la possiamo fare andiamo a 60 con questa multi perfetto poi facciamo quattro singolette e poi abbiamo la multi quella con il 5 stelle ok diamo vediamo 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 se qui mi danno la litig mi vogliono bene o se mi snobbano dovrebbe essere l'ultimo della multi o quasi perché un feo è uscita per ultimissima quindi è molto probabile che sia in fondo o un wixit il mio penso 43esimo wixit è uscita un po' prima è uscita un po' prima dovrebbe esserci un'altra no fine ok è uscita a pt8 ok 61 61 3 stelle 62 ok 63 ok ora queste sono vele mi fanno più ansia le multi prima proprio non le sento quando arrivi a fare queste singole è sempre la morte e 64 la morte ok ok ragazzi ok siamo alla multi molti del 5 stelle almeno che non esca dopo la 76 in quel caso alzo le mani e pazienza ok ok questa è la 65 ma che paura che paura che paura ho detto ma che cos'è ok 66 67 ok 68 va bene va bene mi mancava mi mancava mi mancava quindi va benissimo va benissimo 63 ecco visto ioi yes si si eccola vedi 63 ce l'abbiamo 13 con il 50 e 50 cercando lasci 1 4 stelle qui si cerca qualche yao yao ovviamente che abbiamo solo lasci 0 che ci è uscita nella multi prima tra l'altro è stato l'ultimo pull della multi il 4 stelle quindi sarà probabilmente a me non abbiamo fortuna nella parte finale di questa multi vediamo vediamo tutti gli altri 4 selezioni del banner quindi appunto yunjin e shinian le ho entrambi c6 quindi eventualmente diventano pull per fare la c2 di al nel caso se troviamo copie loro invece yao yao sono costellazioni ovviamente perché è nuova tipo ecco questa è una pull una pull bene prima pull che ci rifacciamo poi pt23 pt23 4 stelle speriamo ne escano due in questa multa meno si ribilancia un po' che averlo sull'ultima non mi piace mai quindi speriamo esca un po' prima adesso vediamo vediamo che ansia eh 4 stelle l'altra un'altra pull si è accorciato di uno il pt grazie grazie fantastico allora 33 trentini andiamo 4 stelle dai dai ah se perdo il 50 la cosa migliore sarebbe yun perché sarebbe la c2 ma va bene tutto va bene tutto anche 25 style glitter che sarebbe di look che ci dobbiamo fare tanto ormai quelli sono diventati 25 style glitter quindi sì questo purtroppo va così andiamo eccola c1 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 buono ok c1 portata a casa ce ne mancano 5 ce ne mancano solo 5 comunque se vediamo 4 stelle pg diversi da quelli del banner gli obiettivi come dicevo prima sono Farouzan con lei Dory e Laila che sono gli unici che non ho c6 che sono tutti quelli nuovi ovviamente ok 43 4 stelle il primo marito ci ha voluto molto bene vediamo c'è la tensione nell'aria ragazzi io agitata come oggi per le pool mai stata molti delle armi anticipato ancora di uno meno male ok 53 4 stelle allora ora che è uscita l'arma è sicuramente uno dei personaggi del banner c'è il 33,3% periodico di probabilità che sia Yao Yao o che sia ovviamente una delle altre due vediamo se la statistica è dalla nostra parte è dalla nostra parte c2 è dalla nostra parte la statistica ci ha voluto bene ci ha voluto bene ci portiamo a casa la c2 della bimba meno 4 meno 4 meno 4 meno 4 fantastico allora andiamo se non sbaglio adesso a 63 o 53 ho perso un attimo il conto guidatemi Davide che Davide di solito non mi guarda 63 ok perfetto andiamo a 63 ok bravi bravi state tenendo il conto state tenendo il conto ok vediamo se la nuova le statistiche sono dalla nostra parte e ci vuole bene di nuovo vediamo vediamo c3 c3 ottimo 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 meno 3 meno 3 c4 c4 mega ravanelli mega ravanelli incoming meno 2 doppia bimba meno 2 i ravanelli incoming ragazzi e andiamo 73 o magari esce qui no bene meno male state sfornando figlie no 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 per carità per carità per il momento sto bene così vediamo dovrebbe essere la prossima ah no perché è uscito all'ultima è uscito all'ultima della multi ovviamente è l'ultima ok una multi delle armi va bene lo possiamo accettare lo possiamo accettare tiro la singola sperando non sia questa fai la brava ok ci siamo ci siamo ci siamo non temo nulla non ho paure solo certezze ce l'ho e c'ho l'arma sono felice però vediamo 75 e poi ci sono le quattro singole 70 ah niente eccolo 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 un attimo ci rimettiamo in posa un attimo ci rimettiamo in posa eccolo 61 pt61 comunque vada è un successo stiamo facendo una live bellissima tutti insieme ancora ancora stiamo facendo una live meravigliosa piena di gente che ha voglia di divertirsi io sono la più contenta del mondo comunque vada per me è un successo in questo momento erano 75 76 porca miseria ma che cos'è questo rate up ma che cos'è questo rate up no ragazzi è scioccata se ne trovo un'altra la build perché resta tutto il party ma vuoi mettere tipo no fighissimo fighissimo veramente bello mi piace e non è ancora finita perché ci sono altre sette single in questa multi sì 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 poi 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 vi spiego un po' come si fa il trucco magico però nel frattempo io sono lieta ragazzi sì pt1 alaitam pt1 lancio il bouquet schiappatelo eh qualcuno l'ha preso?